Il riscontro di attenzione è stato molto importante. D'altronde c'è da dire una cosa, che l'impiantistica sportiva è una tematica che sempre più prende piede perché la ritroviamo nella vita di ognuno di noi, perché ognuno di noi fa sport, i familiari fanno sport e quindi ovviamente sono tematiche che toccano una grande platea. Oggi abbiamo parlato di novità, di sistema di sicurezza, innovazione e tecnologia. Questo per quanto riguarda l'imbologo della casa, dell'abitazione, dove praticamente è sempre più richiesto sia la sicurezza, l'eleganza e appunto il discorso tecnico che è molto importante, insomma la tecnologia. È sempre bello parlare della nostra azienda, di quello che fa, delle evoluzioni anche a progettisti che comunque ci conoscono perché noi nasciamo qui, siamo qui da 40 anni per cui è normale che abbiano avuto contatti con noi. Però aggiornarli su come si sta muovendo l'azienda sul mercato, sui traguardi che si stanno raggiungendo è sicuramente una cosa positiva.